benvenuti sul mio canale allora oggi nuovo video in un video non spacchettamento ma insomma che ho fatto su passione unghie non faccio lo spacchettamento perché comunque ho preso soltanto questi sette colori e basta e ho preso tre colori che erano in offerta e se erano cioè sono in offerta e sono le novità di questo mese di novembre qui altri colori invece sono colori già che che non sono né in offerta né novità insomma solo tre le ultime tre novità ve le lascio alla fine e ve le lascio dove una due quest'altra ecco ve le lascio alla fine intanto vi faccio vedere quelle i colori soliti che dei già c'erano allora partiamo con l'ommaggino questo qui te già me l'avevo mandato l'altra volta il mese scorso che ha già avevo fatto la questa passione unghie me l'hanno mandato uguale vabbè pazienza tanto come lo fanno a sapere tutti gli omaggini che mandano alle persone non è che possono sapere adesso e questa polverina qua molto bella fucsia polverina fucsia bellissima comunque telecamera non rende tanto come dal vivo dal vivo è più accesa insomma ecco molto più accesa e quindi questa qua ho fatto l'ordine comunque domenica ho fatto l'ordine e il pacchetto mi è arrivato martedì dopo va bene dopo dove mettere i colori e stendere sulle tip quindi per questo se no facevo direttamente il giorno dopo ieri facevo direttamente il video però non avevo steso i colori su tip perché volevo far vedere oltre sul barattolino anche sulle tip come i colori stesi e quindi ho deciso di farlo oggi che giovedì questo video però comunque è arrivato dopo due giorni perché ho ordinato domenica il pacco ho fatto tutto domenica e martedì mi è arrivato il tutto insomma a questo qui lo mangino grazie come sempre passiamo i colori ho preso soltanto i colori perché già come ho detto anche in passato io solo 50 colori in tutte le persone unghie ne ho pochissimi e mano a mano che mi arriva le clienti una volta fa uno una volta fa un colore una volta ne fa un altro e alla fine l'ha fatti tutti non c'è più altri colori da faccia nel senso non è che poi comincia da capo eccetera ho anche semi permanente quindi alla fine usano anche quelli però comunque volevo fare un'altra bella scorta di colori per adesso ho preso solo questi sette colori perché non ho avuto altre possibilità di prendere in altri po e quando sarà piano piano prenderò un altro po di colori che poi non solo qui li devo prendere anche tante altre cose comunque per adesso mi sto fermo sui colori devo comprare anche ora tanti altri colori allora ma iniziamo da uno vediamo questo qui va il poison black della linea fast f16 l'ho ricomprato perché mi sta finendo eccolo qua non ve lo faccio vedere stesso su tip comunque l'avete visto il nero questo allora il poison black ma è costato 5 euro e 99 poi abbiamo nudo che della linea classic c17 adesso lo faccio vedere anche steso questo guardate quanto è bello allora in telecamera cioè nella videocamera lo fa più chiaro ma invece in realtà è più scuro non so se te il tappino no è molto più scuro praticamente non è tanto però comunque più scuro allora nudo è questo qui lo faccio vedere su tip è questo qua che è proprio stupendissimo infatti gli altri tre colori che ho preso che sono in offerta sono le novità più o meno ad questi colori qua insomma color carne color nudes roba qua perché comunque le clienti me l'hanno chiesto spesso e non ce l'ho e quindi ho fatto una bella scorta di questi colori qui a questo volumetto qua così vedete il colore eccolo vediamo qui si vedete ok poi abbiamo nocciola a scusate il nudo l'ho pagato 5 euro 49 poi il nocciola che da linea classic c49 è questo qua che è stupendissimo questo è stupendissimo questo ancora lo fa dato che feceva chiaro che questo che questo è già più scuro questo lo fa ancora più chiaro di quello che è però è bellissimo questo lo vedete quasi biancolate pare più o meno voi lo vedete ma invece è un rosato un po più scuro ma è proprio nocciola c'è molto molto bello questo è molto adatto per fare i visi sulle persone queste cose qua quando faccio anche tipo le nelarte no idea ne ho preso i colori per fare le nelarte io su tip quando vi faccio i video è per le clienti però ovviamente se mi capita a fare una nelarte che devo fare un viso di una persona qualcosa un cartoon questo qui è molto adatto molto bello allora a me lo stavo a chiude scusatemi allora il nocciola adesso ve lo faccio vedere è questo qua stupendo proprio mi piacciono tantissimo questi tipi dei colori questo è nocciola e il nocciola pure l'ho pagato 5 euro 49 poi passiamo a incantesimo questo ragazzi è stupendissimo proprio cioè lo adoro proprio che della linea fast f44 voilà guardate che splendore bellissimo proprio questo come videocamera soltanto che dal vivo è più lucica di più più spiccosa insomma ecco questo c'ha praticamente tutti i micro glitter brillantini all'interno c'è entori a e dovrebbe essere un nero soltanto che c'è tutti questi micro brillantini all'interno che sbaglia dal rosso dal verde al giallo al blu cioè stupendissimo bello bello allora incantesimo è questo qua stupendissimo non so se rende tanto così lo vedete meglio cioè proprio stupendo sotto caso mai mettete una base nera pure di un altro colore però comunque spicca con base nera queste perché i tipi adesso sono questi qui trasparenti comunque bellissimo invece incantesimo l'ho pagato 5 euro 99 adesso passiamo ai tre colori che lo fa vedere non li spostassano dopo non li vedete ai tre colori quelle che sono state le novità che poi ce n'erano anche altri proprio sono solo questi che vi ho detto che mi volevo basare a questi colori qua sui nude color carnest robe qua e sono sia in offerta che come novità di questo mese di novembre allora partiamo con alba che è da linea classic c107 e tutti e tre tutti e tre questi l'ho pagati 3 euro e 99 in offerta se no costavano 5 euro e 49 allora alba eccolo qua bellissimo no sto guardando le differenze ma non ci sono questo qui alba e calla ha fatto il danno questo qui alba c'ha di micro brillantina all'interno molto molto bello ma non so se riuscite a vederli penso di no boh è comunque molto bello alba e alba questo qua vi faccio vedere su tip ecco ecco vedete un po c'è se vedono i micro brillantini un pochino questo poi abbiamo eva sempre da linea classic c 109 questi due sono un po più scuri eccolo qua bellissimo questo anche eva mi fa impazzire proprio stupenderrimo eva è questo qui ecco lo steso scusatemi vedete tutti i brillantini di quell'altro gel dell'incantesimo bellissimo eva che potete fare una prova che tipo cioè bellissimo tanto infine l'ultimo abbiamo beatrice sempre da linea classic c 108 giusto che questi sono quelli più i due scuri con i più scuri insomma allora ecco qua bellissimo tanto questo beatrice che adesso ve lo mostro eccolo qua bellissimo allora per le differenze non mi pare di vederle forse questi due vedete è diversi è beatrice e eva cioè eva beatrice questo leggermente più scuro questo è un po più chiaro ma proprio leggermente quindi io vi consiglio caso mai se dovete prendere scusatemi ma vi stavo dicendo quindi in caso se dovete prendere uno di questi due colori vi consiglio di prendere caso mai uno perché comunque molto simili tra eva beatrice se volete un colore in più ok c'è sta li prendete tutti e due come ho fatto io perché vedete questo leggermente pare un po più bianco pare un po più schiarito di questo c'è parlo stesso colore solo un po più schiarito le differenze che volevo farvi vedere però comunque sono bei colori comunque sono differenti e questo leggermente più scuro questo leggermente po più chiaro però comunque si assomigliano molto però ecco se in caso vi consiglio di prendervene solo uno se non ne volete tutti e due tanto più o meno si avvicinano e questi qua gli altri colori invece alba e nocciola far vedere beh anche alba e nocciola più o meno sono quasi simili vedete solo questo è più chiaro lo stesso difetto dell'eva beatrice se volete sempre un colore vi consiglio di prendere uno dei due in caso vedete questo è molto più chiaro questo è leggermente più scuro anche questi due sono molto simili però comunque diversi e dopo vedete voi e niente ragazzi il mio acquisto finisce qua ho voluto fare vedere soprattutto le tre novità che sono alba eva e beatrice in questo mese di novembre e in più gli altri colori a parte vabbè qua c'è anche il nero è poison black che non te lo faccio vedere sul tip e comunque ripeto ho voluto prendere questi colori apposta per insomma anche per le clienti che in maggior parte mi chiedono tutti questi tipi dei colori qua color carne color nude e non ce l'avevo per niente adesso ho fatto una bella scorta di cinque colori nude e sto a posto di tonalità diverse anche se si avvicinano un pochino e quindi ripeto alba eva beatrice sono in offerta a 3 euro e 99 se no prima costavano 5 49 insomma invece che 5 49 adesso costa 3 euro 99 e in più sono le tre novità che sono uscite questo mese oltre anche altri colori altre cosine questi qui invece sono già insieme compreso anche il nero colori che già aveva passione unghie che avevano fatto già uscire i scorsi mesi e niente io spero che comunque questo video che sia per se vi sia piaciuto e vi sia stato soprattutto utili per i vostri acquisti su passione unghie e mettete un pollice in su sotto il video se volete mi commentate io vi lascio un grande bacio ci vediamo presto al prossimo video ciao ciao